La funzione fine punto mese mi restituisce l'ultima data del mese. Ma a quale mese faccio riferimento? Vediamolo in questo esempio. Ho messo come data il primo gennaio del 2020. Inserisco la funzione che trovo nella categoria data e ora e ho due argomenti, il primo dei quali è appunto il riferimento di cella B3. Qua ci vado a mettere i mesi a cui io voglio fare riferimento. Quindi per esempio se seleziono B4 dove ho messo 1 vorrà dire che lui mi restituirà l'ultimo giorno del mese successivo al mese di gennaio 2020. Quindi per esempio in questo caso sabato 29 febbraio 2020. Se io avessi messo 0 mi avrebbe dato la fine di gennaio. Se addirittura avessi messo meno 1 mi avrebbe dato l'ultimo giorno dell'anno precedente.